Quando si parla di ricerca, innovazione e scelta... Solo a vederli seduti allo stesso tavolo e contemporaneamente non è cosa di tutti i giorni. Tre rettori di università, Carlo Bodi Urbino, Politecnica delle Marche e Alma Mater di Bologna e due direttori di altrettanti istituti di ricerca, tre maggiori in Italia, stazione geologica Anton Dorn di Napoli e il CNR. In mezzo a tirare le fila del discorso il sindaco di Fano Massimo Seri. L'occasione è ancora più eccezionale della singolare casualità. La presentazione del Fano Marine Center, il primo laboratorio congiunto a livello nazionale per la ricerca e lo studio della biodiversità, le risorse e le biotecnologie marine. Già il protocollo siglato tra i tre atenei è un progetto a sé stante, poi all'interno di questo verranno sviluppati dai ricercatori singoli indirizzi di ricerca che andranno a studiare gli organismi marini, biotecnologie, sistemi di produzione di energia marina, habitat marino e danni all'ecosistema, nonché la qualità ambientale e le alghe tossiche, solo per citarne alcuni. Lì c'è sempre stata un'attività scientifica, il professor Piccinetti ha svolto un ruolo, sta svolgendo anche oggi un ruolo importante e va ringraziato per questo ed è una bella figura a cui Fano è riconoscente. Oggi a questo si aggiunge qualcosa altro di importante, di significativo, che porterà lustro alla città ma porterà soprattutto ricerca, porterà innovazione, porterà elementi che saranno utili al mondo scientifico e sarà anche un'occasione per tanti giovani. Gli spazi dove 20 ricercatori svolgeranno il loro lavoro assieme agli studenti delle rispettive università sono la sede dell'Istituto di Biologia Marina, Sassonia di Fano, suddivisi in due piani, che subiranno le dovute modifiche nei locali interessati per diventare operativo il tutto dal 1 gennaio 2020 e dove verrà ripristinato anche l'acquario, che anche se di carattere scientifico, da parte della stazione zoologica Anton Dorn, aperto ai visitatori, che potranno rendersi conto di come i ricercatori utilizzano l'acquario. Partiamo da Fano per dimostrare che la ricerca italiana, quella delle accademie e quella degli enti pubblici di ricerca può lavorare assieme, perché il nostro problema in Italia è la frammentazione, abbiamo bisogno di lavorare assieme, noi abbiamo molte infrastrutture, imbarcazioni, tecnologie, robot sottomarini e poi ci mancano gli studenti, ci manca il contributo e la collaborazione con i 200 universitari. Altro partner di primaria importanza è il CNR, che partecipa con l'IRBIM alla costituzione del Fano Marine Center, portando tutta la sua esperienza e la competenza dei suoi tre istituti marini. Il nostro impegno in questi mesi che hanno preceduto questo evento di oggi è stato molto massimo, noi chiaramente crediamo nel valore della ricerca, che è un valore fondante della nostra società. Il nostro impegno è un valore fondante della nostra società.